Un altro palazzo storico apre le porte ai matrimoni civili. Ci si potrà infatti sposare anche a Palazzo Bembo, per il quale il comune di Belluno mette a disposizione il chiostro al piano terra e il salone al primo piano. Per chi invece volesse sposarsi in mezzo al verde, ecco la novità. Sono disponibili i giardini Loris Stormen di via Sottocastello, proprio sotto Palazzo Rosso. Per il sì, a Palazzo Bembo saranno necessari 600 euro, 300 euro in più se è previsto anche il rinfresco. Per i giardini Loris Stormen invece il costo è di 150 per i residenti o a 300 per i non residenti. Negli ultimi anni si è rafforzato il fenomeno del destination wedding, una vera e propria tendenza turistica che vede le coppie sposarsi in palazzi storici o in spazi verdi nelle città o in montagna. Con l'emergenza sanitaria si è nel frattempo reso necessario trovare anche spazi che consentano il giusto distanziamento tra gli invitati.